Salve a tutti amici, bentornati su Pausa Caffè. Partiamo subito con la news, ma potrete lasciare un bel like qui sotto per aiutare semplicemente il canale. Potrete commentare tutte le notizie qui sotto, proprio nella sezione commenti. Caos totale al grande fratello. Infatti Massimiliano Varresse è intenzionato ad abbandonare la casa. Questa almeno è stata la sua esclamazione, fatta a poche ore dalla nuova puntata in diretta con Alfonso Signorini. Lui ha perso completamente la pazienza e ha fatto intendere di essere parecchio sofferente, dunque la permanenza nel reality show sarebbe fortemente a rischio. Tutto è successo da un momento all'altro e ancora non sappiamo come evolverà la situazione. Al grande fratello Massimiliano Varresse si è arrabbiato non poco e ha ora minacciato di abbandonare la casa. Si è accorto di qualcosa che non avrebbe mai voluto vedere, accaduto durante la notte, quindi si è infuriato e ne ha dette quattro ad alta voce. Ovviamente le telecamere non potevano perdersi questo momento e hanno indugiato sull'attore, il quale si è sfogato moltissimo mentre dialogava col coinquilino Ciro Petrone. Dunque, la conversazione al grande fratello di Massimiliano Varrese, sempre più pronto ad abbandonare il programma, è cominciata in questo modo come ricostruito dal sito Novella 2000, anche questo, porcapiù asterisco asteriscoana. «A quest'ora devi girarle intorno? Ma io dico! Adesso mi girano e poi sbrocco! Reggo, reggo e poi sbrocco!» Nonostante abbiano tentato di tranquillizzarlo, il suo nervosismo non è diminuito e ha annunciato la volontà di andarsene. La furia di Varrese è scaturita dal fatto che Heidi Baci, che a lui piace moltissimo, è sempre più vicina a Vittorio Menozzi. Quindi, gli è scattata la gelosia e alla fine ha esclamato, «No, io lascio la casa!» «Non ce la faccio più, mi sento sotto pressione!» La ragazza poi è andata verso di lui e la situazione è tornata pian piano alla normalità, anche se è difficile prevedere cosa potrà accadere e quale sarà la decisione definitiva di Massimiliano. Alcuni utenti hanno attaccato duramente Varrese, la gelosia, la tossicità e il soffocamento di un comportamento simile non è normale. Non sono in una relazione e lui non può pretendere niente. Heidi, facci sto grande favore. Portalo all'esasperazione e fallo uscire dalla porta rossa. Il video finisce qui, ma se sei interessato alle news puoi iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nuovi video.